Lo Sferisterio è un po' il simbolo di questo territorio, in particolare di Macerata, ma di tutta la regione Marche. Lo Sferisterio è un luogo magico, è un luogo magico perché ha delle mura che raccontano una storia. Di affascinante della macchina dello Sferisterio secondo me c'è tantissimo, ma soprattutto la cosa che io trovo veramente estremamente bella è il senso di gruppo che c'è qui. Perché c'è un gruppo estremamente compatto e coeso che lavora intorno a tutto quello che poi noi vediamo seduti da spettatori. Grazie a tutti. Diciamo che Macerata all'interno della nostra regione sicuramente è il luogo che ha più cultura, più storia e rappresenta praticamente in modo emblematico la vera agricoltura, la vera operazione che l'uomo ha fatto sulla terra. La vera operazione che l'uomo ha fatto sulla terra. La vera operazione che l'uomo ha fatto sulla terra. Grazie. 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 Grazie.